E buonasera Qualche vuole quindi Proviamo Perché si focalizza sulla faccia di io Questa è la mia faccia Cretino Non vedi i miei bellissimi occhi Ce l'ho con la mia Fotocamera Webcam come la si vuole meglio chiamare Allora intanto fatemi vedere Che qui procede tutto bene Non ho dubbi che sarà una lunga serata Ma non dico nulla Perché qui Colui che non deve essere nominato È sempre in ascolto E se lo si nomina È la fine Ok Allora vediamo se qui Non partire Col coso Cretino Ok Volevo prendere anche da Youtube Oh No Forse ce l'ho fatta Yes E già vedo Già vedo la gente che arriva E scrive Io neanche mi sono preparata Le cose È arrivato Piero De Pinuscher Che dice Antonio Calabro Antonio Calabro Anche a lei Signor Piero Mentre arriva anche Ce la posso fare No Accidenti No Non ti ho segnato il nome Arriva comunque anche Nocturne Manuel Che dice Ah giusto Manuel Scusami Non avevo letto Manu Che dice Buon salve Ma buon salve Anche a lei Buonasera Buonasera Anche il mitico Alessandro Arriva dicendo Ehi Ehi Anche a te Intanto Mi preparavo Volevo prepararmi Un'ultima cosina Occhiali permettendo Che mi stanno segando Il naso Perché ho un naso Molto grande E soprattutto Largo E Questi fregni Mi stanno segando Letteralmente Il naso È una cosa meravigliosa Un'esperienza mistica Devo dire Alquanto Alquanto Mistica Non Non respiro Lentamente Mi sta anche Tappando il naso Perfetto Eccoci qua Ok Allora Mi preparo I miei documents Da farvi Vedere Perché Stasera Parleremo Di mani Le famose Mano Ma guardate La webcam Ettore Piantala Porca miseria Perché in Italia Lo chiamo Ettore Non Ettore Capito Perché lui è italiano È di Roma Continua a focalizzare Su di lui Per tenere La Così ti piaccio di più Con gli occhi Yes Ok Pare che gli piaccio Molto di più Senza gli occhiali Ah Anche io Mi piaccio di più Ah Il dolore Uh mamma Che cosa è successo qua Ok Tutto a posto Tutto a posto Yes Alessandro scrive C'è una sola cosa Che odio più Delle mani DINKLEBERG Io invece i piedi I piedi I piedi Di DINKLEBERG Ancora peggio DINKLEBERG Che terà bello Mi mancano E dufante a genitori Nel cuore In the heart In the very much heart Ai 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 dolori Manco La vecchiaia E che cavolo Se è arrivato il signor conte Se ci sei batti un colpo Ti devo fare la revisione Dei disegni Che mi ha mandato Dell'inchiostrazione Qualcuno Qualcuno Vada a prendere il signor conte Con la limousine Perché essendo il signor conte Bisogna andarla a prendere In the fratemp Come va Come non va E per l'appunto Stasera si parla Di mani Che so essere E che Come è giusto che sia Un tallone d'Achille Anche se sono mani Ah 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 Avete capito Ah 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 Che battute Ah ah Neanche a palla a volo Si fanno battute così Neanche a tennis Stasera non mi ferma nessuno E Eccolo il signor conte Che dice sono qui Bravo Visto che già ci sei E visto che Non so in quanti Ci saranno stasera Perché Facebook Soprattutto Con i suoi algoritmi Del cazzo E Adesso Non mi si fila più nessuno Perché Da Non gli è andato Mi ha punito Perché ho fatto Le fan art Dal mitico Fedini Che siccome È tanto seguito Hanno avuto Sacco di like E siccome poi Sono stata male E quindi non ho postato Per un po' di tempo Facebook mi ha punito Tantissimo E non Fa vedere Alla gente Le cose che faccio Quindi Yeeeh Magia Magia di Facebook Yeeeh Yeeeh Basta Detto ciò Perché mi prendi questo Non lo voglio questo Va bene Voglio questo Ah Già Già che mi Sono totalmente sudata Che già L'eyeliner Mi sporca tutto Io l'ammazzo Io l'ammazzo Eccoci Ehm Il signor conte dice A che serve imparare A disegnare le mani Quando posso imparare A disegnare le tasche Esatto Però devi Se sai come disegnare Una mano Poi sai disegnare la tasca Ancora meglio Perché sai la forma Della mano Che c'è sotto E quindi E' magico E' tutto molto più magico Detto ciò Già che sei qui Che tanto sarà una cosa Per pochi eletti Ehm Prima di cominciare il tutorial Per dare alla gente Se vuole venire Il tempo di venire Di arrivare qui Ti faccio la revisione Al volissimo Dei disegni Che mi ha mandato Aspettate che me li metto Subito qui Questo è uno E queste due Che però Devo girare Quindi Giriamolo Stupido cosa Ok Cioè stupido Cosa ce l'ho con Photoshop Che Non gli piacciono Le cose Che cavolo Ok Ok Olè Eccoci qua E' già che il ciuffo Che cala Devo mettere le Le forcine Quando faccio le live Eccoci qua Opla Guardate Volevo solo fare Un i Ok Anzi basta meno I Ok Dunque Per quanto riguarda L'inchiostrazione Ehm Non capisco Con che materiale L'hai fatto Mi sembra Che hai usato Un pennello Da Da alcuni tratti O comunque Un pennarello Con una punta Che sembra Un pennello Ho bisogno Della tua risposta Perché a seconda Di quello che mi dici Io posso aiutarti Fidati Io ti posso aiutare Quindi Dimmi Che cosa hai usato Di preciso Brush pen Eh ok Allora avevo intuito Te lo sconsiglio All'inizio Perché Come Come puoi vedere Tu stesso Aspetta Te lo Scusa Lo opacizzo leggermente Per poter far vedere Un tratto sopra Aspetta Arrivo È molto Tremolante È un po' troppo Tremolante Da quel che vedo Quello che ti sarebbe utile fare Prima di usare La brush pen Nel senso che Per inchiostrare È uno strumento Fantastico È meraviglioso Però È uno strumento Molto preciso Bisogna essere Molto precisi Per Per riuscire a fare Una bella inchiostrazione Quello che vedo Che un po' Mi sembra Il tuo problema In questo caso È che Non hai ancora Un tratto Troppo Deciso Ci devi ancora Lavorare su Quindi quello che ti consiglio Di fare io come esercizio Per poi tornare Dalla brush pen All'inizio Usa una matita Usa una penna Non usare Punte Non usare Strumenti Che abbiano Punte A mo' Di pennello Te lo sconsiglio Per lavorare Sul tuo tratto Comincia Con una penna Prima Una penna Cioè Inchiostra Con una penna O un pennarello Però Dalla punta dura Così che tu possa Lavorare Sulla decisione Del tratto E una volta Che hai Ben chiaro Quello Vedrai Che L'inchiostrazione Ti riuscirà Molto meglio Perché Come vedi qui La linea è molto più spessa Poi si va un pochino A sottigliare qui Poi si riallarga Questo fatto Che sia Tremolante Mi fa capire Che ancora Non Non ti manca tanto È bisogno Di un pochino Di esercizio Quindi appunto Per esperienza Ti consiglierei Di fare Esercitarti Sul tuo tratto Senza una brush pen E dopo Tornare alla brush pen Quindi prima Allenare proprio La tua mano Al tratto Ecco In the frat GAS & FOOD Ok Mi hai scritto Capito Grazie Quindi A post Te lo consiglio Davvero È sempre Utilissimo Cioè da qualcosa Bisogna cominciare Quindi Bravissimo Che ci hai provato Comunque Sei l'unico Che mi ha mandato Qualcosa Quindi bravissimo Dief e lode Assolutamente Detto ciò Intanto è arrivato Anche Alberto Bortot Che dice Buonasera Buonasera anche a te Ben arrivato Puoi pure dire Che non lo so fare Non lo so fare Non avere paura No no Non è che non lo sai fare Lo sai fare È che il tratto È indeciso Rispetto a quello Che ti servirebbe Per usare la brush pen O qualsiasi altro Pennello Come inchiostrazione È ancora un po' indeciso Però Non è che non lo sai fare Figurati Se no te lo avrebbe detto Guarda Però tu sai disegnare Quindi L'inchiostrazione Ce l'hai Devi solo lavorarci Sopra con il tratto Capito È arrivato anche Mirko Che dice Ma salve Buonsignori Ma buonsignori E buonsalve Anche a te Bene Arrivatissimo Ah mi prude il naso Cominciamo subito Manuel dice Io mi sono dimenticato Di inviarti il disegno Con l'inchiostrazione Se vuoi posso rimediare Inviandotelo Ora su facebook Visto che sono Le 10 Eh le 10 Vabbè Le 9 e un quarto Io comincerei il tutorial Tu mandamelo comunque Su facebook Che a parte Ti scrivo La revisione appunto Senza Senza problemi Detto ciò Io comincerei Questo tutorial Sulle mani Su come Disegnare le mano Per quei Quattro gatti Che ci sono Però Pochi ma buoni Come si suol dire No Senza Alcun Timore Scusate Vedo cose Messaggi Invece Tutto a posto Is tutta post Ebbene Allora Le mani Sono una brutta bestia Lo so All'inizio Ho pianto tanto Anche io Però Per mia fortuna Aspettate Scrivo Mani Non ho salvato ancora Il file Tutorial Per mia fortuna Rispetto ai piedi O anche Alla faccia Umana Le mani Sono qualcosa Che Mi è sempre Riuscita Cioè Le capisco Per esempio I piedi Ancora non riesco A capirli E quindi Voglio aiutare Anche voi Sulle mani Che sono davvero Difficili Davvero Difficili Lo capisco Intanto Potete Vi posso subito dire Che Studiarle Quindi Venirne a capo È meno difficile Che con un piede Perché avete le reference Sempre davanti A meno che Non siete così sfortunati Poverini Che avete una sola mano Ma Di solito Diciamo A un buon Almeno 50% Dei casi Due mani Le avete Quindi Potete sempre Usare Per studiare Una vostra mano Come reference Tutte le pose Che volete Anche guardarvela E in questo Preparatevi Perché in questo video Vi dirò spesso Di guardarvi la mano Ok Niente Niente di strano Guardarvi la mano Perché Per saver disegnare una cosa Bisogna prima capire Come è fatta dentro Cosa nasconde Questo magico Arto Pieno di dita E di pugni I pugni Nelle mani No Intanto Alessandro scrive Io non sono ancora entrato Nel mio periodo creativo Un giorno tornerò a disegnare Prima o poi Alessandro Prima o poi Dai Mentre Mary dice Canta cufo a tutti Vi faccio un saluto veloce Anche oggi Perché Voglio almeno salutare Ma non potrò esserci pure oggi No Mary Ci manchi tanto Ma grazie Anche per un saluto veloce Grazie mille E tranquilla Ancora non ho risposto per il messaggio Ma sappi che No Ancora non l'ho letto Quello che mi ha mandato Ma lo leggerò Accidenti Tu ricordamelo Perché tra mille cose da fare Me lo dimentico Non è per cattiveria Giuro Sappilo Chiusa parentesi Detto ciò Passerei Alle famose Mano Eccole qui Allora intanto Niente panico Niente panico È divertente Perché io Tendo a immaginarmi Le mani Sempre viste dal dorso E mai dal palmo Quindi Quando ho visto questa immagine Ho fatto Ma le mani Che si vedono Che strano Mettere le mani così Invece perché sono messe così No Vabbè A voi in realtà Non frega niente Ma non Non vi preoccupate Intanto questo È l'osso Di una mano Che ha un nome Dici mano Grazie a cazzo No Le varie ossa Hanno un nome E sono molto importanti Per capire Come sono fatte le mani Per esempio Questo È il Metacarpo Questo invece È il Carpo E queste Tutte queste Sono le Falangi E sono adorabili Perché si chiama Falange Questa È la falange Questa è la falangina E questa è la falangetta Non sto scherzando Anche se qui In realtà c'è scritto Falange 1, 2, 3 Vi giuro che in anatomia Si dovrebbe chiamare Falange Falangina E falangetta Forse Si sono resi conto Che era un po' Cioè Buffo Chiamarle così E quindi la chiamano Falange 1, 2, 3 E questo è il pollice Questo invece è il pollice No? E quant'altro Questo è il polso C'è il polso Questa è l'articolazione Del polso No? Dove finisce Dove finiscono Le due ossa Dell'avambraccio Che sono il radio Questo Che è quello più grande E questo invece Che è l'ulna Che è scritto Ulna Che li conosco molto bene Perché me li sono rotti Il radio Completamente L'ulna incrinato Frattura scomposta E quindi Ho conosciuto questi nomi Fin dalla tenera età Di 9 anni Ma vabbè Dove è del braccio destro Poi no? Però per fortuna È tutto intero È tutto a posto Perché vi dico Queste cose Che sembrano Noiosissime Che palle Parentesi Queste Sono le nocche Quindi la mano Praticamente È così Questo è il pollice Parte che Il pollice Che finisce qui Così Qui c'è il dito Numero 1 Dito numero 2 Dito numero 3 E mignolo Quindi la mano È tutta qua Ok? A posto? È tutto chiaro? Ci sono Vi siete spaventati? Questa lezione di anatomia Incredibile Mirko dice Capito ragazzi Se non sapete a memoria Come è fatto il vostro Carpo Non potete disegnare le mani Maria anche a te Mando Ha mandato DNA Eh? Maria perché è Mary? Vabbè Lasciamo perdere No tranquilli Non è che lo dovete sapere A memoria Però è importante Perché uno si immagina Uno che non lo sa Vede sti cosi E dice Ti guardi il dorso della mano E vedi delle strisce Dice Questo è il tendine La mano dove comincia Comincia da qua In realtà È buffissimo Perché In realtà La mano è costituita Dalle ossa Cioè è vuota Cioè è vuota qua in mezzo Le famose scene In cui ti passa il coltello Se ti passa un osso E l'altro Non c'è niente dentro No? Sembra una cosa scema Ma giustamente Se uno non lo sa Non lo sa Se uno non si è mai Soffermato a guardare Un osso umano O una mano umana Le ossa Di una mano umana Non lo sa Perché vi faccio Tutta questa premessa Perché è davvero importante Perché le Sapere che Sotto Non sono semplici tendini Questi Ma sono anche le ossa Ti fa capire anche Come mai La mano riesce A mettersi a U Cioè si riesce Ad imbarcare No? La mano Com'è possibile Se fosse un osso piatto Non sarebbe possibile Il fatto che sono Quattro ossa Cioè cinque ovviamente Col pollice Cinque ossa Tutte separate Tra loro Possono fare Dei movimenti Praticolari No? E non possono Fare invece Altri movimenti Ok Detto questa cosa Incredibilmente Noiosa Lo so Però è importante Saperla Fidatevi Passiamo Vi faccio vedere Una mano Insomma Che si capisca Un po' di più Che una mano Ovvero Questa qui Che non L'ho disegnata Io Perché Non sono così A parte Non ho avuto Il tempo Ovviamente Come al solito Ma soprattutto Non sono così Brava Ma Lo ha disegnato Un certo Joshua Nava Arts Se lo cercate Lo trovate Ed è Molto bello E' una serie Di mani Che vi farò vedere Intanto questa Boom Parte Sgranatissima Possiamo anche Ridurla un pelino Giusto Giusto per capire Vedete Così sono Le ossa All'interno Della vostra mano Come potete vedere Per esempio Il pollice Aspettate Prendo un altro colore Così si vede L'osso del pollice Non finisce Qua Il pollice C'ha una V Finirà qui No Arriva qua giù Quindi qua in mezzo Vedete Cioè non lo so In realtà voi vedete Un'immagine piccolissima Ma comunque Se vedete qui Non c'è niente Quindi quando Quando il pollice Dovete tener conto Che è tutta pelle Là in mezzo Non c'è niente Tenete a mente questo Vi sarà utile Anche per ragionare Quando mettete la mano In certe pose Come mai Qualcuno riesce a fare Questo col pollice Perché in realtà C'è un osso qua Che solo questo Si piega Insomma Arriva fin qua giù L'osso Sì che poi Lo sto facendo così Fin qua giù Cioè praticamente Fino al vostro polso Fino al carpo E poi appunto Queste sono Come dicevo Le nocche Vedete qui Questo è tutto Spazio vuoto Tra Un osso e l'altro Ed è davvero vitale Ci permette di fare Dei movimenti Pazzeschi Abbiamo una mobilità Notevole Nelle nostre mani Ancora più Che per esempio Se andate a vedere Quelle di un gorilla Che è molto più Sono molto più tozze Cioè il pollice È molto più corto Insomma Possiamo fare Movimenti particolari Soprattutto noi italiani Che adoriamo gesticolare La famosa mano a pignetta Italiana classica È molto particolare Come gesto Vedete quanto è Si curva la mano Sono troppo belle Le mani Mi piacciono tanto E qui Qui sotto Abbiamo tutte le ossa Vedete quindi Già per disegnare una mano Possiamo vedere Una cosa interessante Tra una falange E l'altra Abbiamo Gli ossi Che si gonfiano E quindi Già intruiamo La forma del dito Che è questa Cicciotta Poi Primo tondo Secondo tondo E poi L'ultima falange E già Abbiamo Un dito Vabbè Poi l'unghia Vabbè Abbiamo un dito Verosimile Aspettate che Non so se lo vedete Che è molto chiaro Questo che ho appena disegnato Un dito verosimile Noi abbiamo Tre falangi Una Due E tre Per il pollice Invece Ce ne sono Cioè sono sempre Tre Però sono Di meno Perché Abbiamo qui C'abbiamo il carpo Una Due Tre Mentre Il carpo Del Metacarpo Pardon Il carpo è questo Il metacarpo Del pollice Arriva fin qui Quindi in realtà Solo due falangi Una E due Cioè lo vedete Qua Stupido Perché non mi fa Ah giusto Scusa Me la sto prendendo Con il computer Quando è colpa mia Vedete qui Ha solo due falangi Una E due E questo appunto È il carpo È il metacarpo Porca Di quella Insomma Ne ha due No lo vedete Ha solo una rughettina Qui ce ne abbiamo Una e due E quindi sono tre Uno Due Tre falangi E questo Di nuovo Ci aiuta Perché vi aiuta A ragionare Dico Stamano Come la posso mettere Come la posso fare Come la posso costruire La si costruisce così E comunque come vedete Tra una falange E l'altra C'è sempre questo tondo Che gonfia Rispetto Al resto Del Del dito No Vedete Cioè se io faccio il tondo No Questo è il pollice Qui si va ad assottigliare Qui si allarga Qui si riassottiglia E si riallarga Perché qui c'è La nocca Diciamo Del pollice Non so se tecnicamente È considerata una nocca Però insomma Per farvi capire Ah Aiuto Mi sono persa Un po' di cose E Accidenti Su facebook Ci scrive anche Stefano Giordano Fratar Che dice Buona seranza Ancora una volta Un saluto E via Altrimenti Non riesco a vedere La live su youtube Starò zitto Ma ci sono Va bene Allora Ben arrivato A che te Stefano Grazie per aver passato A fare un saluto In the frattemp Ok Avete domande Perplessità Qualcosa Sulle mano Fino ad adesso Fino ad adesso Sto andando Troppo veloce Non capite Perché vi sto Specificando Certe cose Tutto Tutto chiaro Cristallino Un giorno Forse Lo scoprirò In the frattemp Passo Mi preparo La seconda immagine Che vi volevo far vedere Sulle mani Boom Che è questa qui Che è un ulteriore Metà osso Metà non Per farvi capire Di cosa sto parlando Sempre disegnato Da Joshua Nava Non le ho disegnate io Non ho avuto il tempo E poi Lui è davvero bravo Vedete qui Gli aggiungo solo io Per farvi capire Vedete qui Questo è il braccio E la mano Con le varie dita È qua Vedete come Ritroviamo Questo è il polso Che è praticamente L'aggiunzione Come vi dicevo prima Tra le due ossa Infatti se voi Vi guardate la mano E osservate attentamente Potete anche sentirla Sentite lo scalino Quello che noi chiamiamo polso In realtà è la fine Delle due ossa Infatti ci abbiamo Se ci fate caso Due bozzetti ai lati Li sentite? Se voi vi palpate il polso Sentite Lungo 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 Se strapolate questo discorso Che è una cosa Ambico incredibile Però sentite Due bozzetti Che sono la fine Delle due ossa E poi Quello che sentite Subito dopo È questo È questo qui Che è il carpo Infatti se sentite C'è di nuovo Un ulteriore Bozzettino E sono le ossicina Le ossicine Ossicina Le officina Del carpo Subito dopo Che poi dura pochissimo Cioè arriva fino Con te Uno Due Tre Cioè se dividiamo la mano in tre È praticamente un terzo Della mano Da dove comincia la mano Il carpo è solo Tipo questo Poi qui Ci sono già C'è già il metacarpo E poi cominciano i falangi Questo vi aiuta Perché di nuovo Quando Voi andate A enfatizzare I tendini E le ossa Perché ad alcune persone Si vedono Sapete che Arriveranno fino a qui Non arriveranno Fin qua giù Fino al polso Arriveranno un po' più su Perché occhio C'è chi le fa arrivare qua Ed è una cosa incredibile E poi Un'altra cosa Molto importante Si aprono a ventaglio Ma il pollice Non parte da qua Non è attaccato qua Ma parte Un pochino più In basso Rispetto alle altre Cioè se la vedete così Noterete che è un po' più distaccato Lo potete vedere Se poi Soprattutto gli uomini Si vedono molto di più I tendini E i tendini Seguono Quasi perfettamente Le ossa E lo potete vedere Se fate Cioè mi fa malissimo La mano sinistra A tenerla sforzata Si vedono chiaramente Dove arrivano le linee Poi Ho trovato un'altra foto Ve la farò vedere meglio Mirko intanto Dice Mai notato Come Quando ruotiamo il braccio Luna rimanga in realtà Fermo E sia solo il radio A ruotarci attorno Sì Sapevo questa cosa Sì Che pure nel CGI Oddio Se non sbaglio Sì Perché il radio È quello più grosso Dovebbe essere questo al centro Quindi Sì Il fatto proprio Dell'avambraccio Fatto così È fighissimo Perché ci permette Proprio di fare Questo Che poi Non tutti gli animali Possono fare Possono fare così Per esempio Molti dinosauri I famosi Se sbaglio Proprio anche Il tirannosauro Non ci aveva Le manine così Anche questo Mica lo poteva fare Dovevi avere Un osso In particolare Per farlo Non mi ricordo Un muscolo Ci avevano Le manine così Delato Ma non così Sempre così Curiosità E Aspetta Volevo vedere se c'erano altre domande No Quindi Ricordatevi Vi stresserò Fino alla morte Di come Potete vedere Che Qui Qui E qui Ci abbiamo I rigonfiamenti Saranno Fondamentali Perché per fare Un dito Preciso Soprattutto se volete Farlo realistico Se tenete I tondini Vedete Viene Perfetto Perfetto Poi ovviamente C'è la ciccia Di carne Bisogna tenerne conto Però per cominciare Per capire La base C'è proprio Di che stiamo parlando Non vi preoccupate Poi Lo vedete anche Del dito No Se voi lo tenete dritto Si si vede Che Tra una falange E l'altra Si L'osso è più grosso E quindi Fa un bozzetto Però ovviamente Se lo piegate La cosa diventa diversa La prospettiva Bla 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 La La ciccia di carne Si stringe Quindi Va fuori No Alessandro Dice Non ho capito Il tendine Del pollice E Aspetta Adesso ti faccio Vedere meglio Guarda Ti faccio vedere Molto meglio Perché C'ho l'immagine Proprio di Dei tutti i tendini Della mano Eccolo qua Boom Anzi In realtà Per quello che mi avevi Chiesto tu Aspetta Ti faccio capire meglio Non è un fattore Di tendine È un fattore Di osso Quello che ti dicevo io Che il pollice Rispetto Questo è il pollice No Aspetta Prendo un Colore diverso Questo È il pollice Anche se qui sembra Particolarmente lungo Lascia perdere È il pollice Nota come Rispetto alle altre dita Sia leggermente Più separato Questa distanza È leggermente Maggiore Rispetto a queste Ok Quindi è più È leggermente più Separato Quindi quando la mano Soprattutto tende a fare questo C'è molta più distanza Niente Intendevo dire solo questo Che c'è molta più distanza Soprattutto quando viene Aperta la mano Tra i metacarpi Delle quattro dita Rispetto al pollice Il pollice Tende a essere posizionato Leggermente più giù Ok Questa mano è chiusa Appunto Volevo farti vedere Quest'altra Qui si Vedete Perfettamente I vari I vari tendini Questi sono proprio Anatomia incredibile Sempre disegnata da Joshua Nava Non mi prendo Assolutamente meriti E È arrivata anche Non ti avevo segnato Che palle Perché non ti ho segnata Accidenti È arrivata anche Rune Starve Dice Namaste Namaste Buonasera Buon suar E in tutte le lingue Possibili E niente Intanto sto spiegando Come disegnare le mano Vi volevo far vedere Queste immagini Perché Vediamo di mettere Oltre alle ossa Un po' di ciccia Sopra queste mani No? Cosa c'è Sopra la ciccia? Ci sono Importantissimi Questi sono tutti i tendini Questo 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 E questo Sono i vari tendini Della mano Ok? Sono importanti Perché nel disegno Quando si disegna un'immagine Si vedono Soprattutto in certe posizioni I tendini Le nocche Si vedono tanto Quindi sono cose Da tenere a mente Perché così Possono risultarvi Più facili Così è più facile Per voi Disegnare Una mano Credibile Sapendo Che ci sono Queste cose Importanti Soprattutto Scusate Sembra che mi scaccolo Ma come al solito Soffro di allergia Mi prude il naso Sempre Soprattutto quando faccio Le live Ovviamente Che cazzarola Che palle Ehm Un'altra cosa Importante Che volevo dirvi Sperando di non Dimenticarmela Proprio adesso Perché mi sono Persa il discorso Parlando Del naso Che mi prude Che ho tristezza Ah sì Una regola fondamentale Una mano maschile Ha le ossa I tendini Della mano Del polso Le vene Anche Però Una cosa alla volta Molto Più accentuate Soprattutto Se fate Uno stile caricaturale Rispetto Alla mano Di una donna Mani delle donne Difficilmente Si vedranno Tutte le cose Nervose Una mano Qui praticamente Si accennano Giusto le nocche Nel disegno Quasi mai I tendini A meno che Non sta afferrando Qualcosa E proprio Per enfatizzare La forza Che ci sta mettendo Nell'afferrare qualcosa Nel reggersi A qualcosa Si accennano I tendini Perché fateci caso Vengono fuori Se voi tenete La mano morbida Si vedranno Molto di meno Se invece Fate come per stringere qualcosa Vi si vedranno subito I tendini Perché giustamente Fanno così Come potete vedere La mano C'ha anche I vari muscoli No Ovviamente Senza i muscoli Come se può fare Soprattutto Qua nel palmo Qua nel pollice E' bello cicciotto E' bello cicciotto E anche qua Sulla parte esterna Della mano Qui Praticamente Quasi tutto Muscoletto Perché in realtà L'osso Fa così E poi c'è Qua Il carpo No? Cioè che poi Io vi faccio i segni Ma So che mi vedete Minuscola Perdonami Perfetto Manuel mi dice Che comprende I pruriti dovuti All'allergia Pat 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 Grazie Grazie Per la comprensione Qui Questa Curvetta qua E' data Soprattutto Dai muscoletti Dalla ciccia Ok? Le pieghe Della mano interna Ci arriviamo dopo Quindi non vi preoccupate Non mi sono dimenticata Della loro esistenza Ci sono Però Diciamo che Quella è una conseguenza Del fatto che abbiamo La ciccia Sulle mani E non sono ossa Detto questo Abbiamo visto Un po' La mano Come all'interno Vediamo Di vederla Un po' Anche Dall'esterno Vediamo se Aspettate Fatemi vedere Se questa era L'immagine Voglio farvi vedere Ecco Vediamo se Ve la riesco a far vedere Abbastanza grande Sì E adesso Vediamo Delle mani Vere e proprie A parte che ripeto Potete anche Divertirvi Ad ammirare A fare Fare cose Con la vostra Con la vostra Stessa mano Anche Lui dice Che sono Anche lei In allergia E Vediamo un po' Di capire Di comprendere Aspetta Ve lo voglio mettere Un po' Alla Allora Ok Devo mettere Un po' Più a lato Così accanto Vi posso Disegnare Eventuali Esempi Se avete Intanto Domande Dubbi Chiedetemeli Now O tascete Per sempre Allora Eccolo qua Come potete Vedere Nel frattempo Vedete qui Anzi Spero che Si vedano Un po' Si intravedono I tendini Qui vediamo Le nocche Che per qualche Motivo Che non sono andata A ricercare Tendono a essere Sempre Rosse Più rosse Rispetto al resto Vedete qui Come si nota La pelle in più Rispetto All'osso Che arriva fin qua L'osso sotto Arriva fin qua Qui sotto Pure c'è L'altro osso E qui c'è Il carpo Questo Vedete come si Possono intravedere Qui c'è Il bozzetto Qui c'è L'osso Che è radio Qui c'è l'ulna E qui sotto C'è il carpo E da qua Cominciano tutte le ossa E' importante Notarle Mentre studiate Un po' La mano Perché poi Connettete Insomma Ricordo L'immagine Salvata Un po' Nella memoria E quando andate A ridisegnarla Vi è molto più semplice Il bello Della mano Diferenza del piede Che è tutto Cose strane In realtà Lo dico così Perché ancora Non l'ho capito Io stessa E che La mano Nella mano Potete vedere Anche molto chiaramente La struttura Che c'è sotto Il che Vi aiuta A crearvi Uno schema mentale Per poterla disegnare Poi più facilmente In tutte le pose Sembra una struttura Complessa Però una volta Capito Com'è fatta Vi assicuro Che ci si può Ragionare sopra E' arrivato Anche il mitico Fonzos Che dice Sono rosse per via Del sangue Dei nemici Presi a pogni E' vero E' vero Non ci avevo pensato Grande Fonzos Saggio Fonzos Grande Grazie Ben arrivato Soprattutto Il signor Conte dice Ma c'è un riferimento Per trovare la lunghezza Giusta Per ogni singolo dito Per non fare le dita Troppo lunghe O troppo tozze Intendo tipo Le nove teste Per l'altezza Allora E' molto probabile Che ci sia Io sinceramente Non lo so Per un semplice fatto Non esiste La mano perfetta Cioè Per lo meno Le mani Sono Incredibilmente Diverse Per un personaggio Possono essere tozze Per uno Molto più affusolate E lunghe Oggettivamente Diciamo che C'è un minimo Di proporzione Fateci caso Di solito Se andate a vedere Le dita Che poi Le dita stesse Hanno una lunghezza Diversa Il medio Questo Scusate per Ma Oggettivamente Questo E' il dito Più lungo E' più lungo Dell'indice Dell'anulare E del mignolo L'anulare pure E' leggermente Più lungo Rispetto all'indice L'indice E' leggermente Più corto Rispetto all'anulare E il mignolo E' più piccolo Di tutti Ma questa affermazione Potrebbe essere Non vera Mi spiego Perché Questa è la mia mano Ci sono mani E l'ho visto Vi giuro L'ho visto Cioè vi giuro Non è una cosa Neanche così terribile Che Invece L'indice E' alla stessa altezza Se tu lo misuri E' alla stessa lunghezza Dell'anulare Per esempio Mentre il mio No Non funziona così Quindi in realtà E' molto relativo Diciamo che Se proprio Vuoi darti Per darvi Un minimo Di Se vuoi fare Le dita tozze Basta farle Larghe E apparentemente Meno E Parlando sempre Dal punto di vista Cartunesco Più corte Rispetto Al palmo Di solito L'anulare E' il medio Più o meno E' lungo Quasi Quasi Quanto il palmo Più o meno Vedete Questa è la lunghezza Del mio anulare Perché l'anulare Il mio medio Che rispetto al palmo Che poi in realtà Penso sia Lungo quanto il carpo E' il metacarpo Aspetta Andiamo a vedere Andiamo Subito a vedere Per esempio No Per esempio In questa mano E' più lungo E' giusto Perché in realtà Io non contavo La nocca Quindi contando La nocca E' lungo Quanto Il palmo Quindi più o meno Ragionate In base Anche al palmo Ok Se volete Farle più lunghe Fate le più lunghe Rispetto al palmo Della mano E così via dicendo Anche perché È relativo L'attaccatura Qua Non è la vera attaccatura La falange Sta in mezzo Cioè dove C'è la nocca E dove Sentite la nocca Che è il solchetto Tra le due dita Come abbiamo visto Qual era Anche in questa mano Vedete Qua Questa Questa è la nocca E qua c'è il dito No E qui La pieghetta Si forma più o meno Qui Quindi comunque Bisogna Tenere conto Di diverse cose Ma Non Non vi Impanicate Va bene Ok È arrivata anche Porziana Sono arrivata Anche io Però Buonasera Buonasera Anche a te Rune dice Non esiste La mano perfetta Oh mio dio Che notizia Scioccante Il fondo dice Allora Buonasera Anche a Porziana Mirko dice Se hai problemi Con i piedi A me ha aiutato molto Il tutorial di Scenics Design Non lo conosco Poi me lo vado a vedere Tanto Rimane Grazie a dio Finalmente la chat Rimane scritta È arrivato anche Giorgio Raneri Che dice Eccomi Ciao ragazzi Ciao Fede Com'è tutto a posto Si tutto a posto Si parla di mani Stasera Stiamo fondando Un fan club Sulle mani perfette Di Fede Di Rune No Decisamente no Anche se È una delle parti Che mi fa meno schifo Di me Finchè non le metto così Perché poi Anche il mignolo Il mignolo Cambia tantissimo Il mio mignolo Quando chiudo la mano Se vedete Vabbè Praticamente Ve lo dico io È più piccolo Di una falange Rispetto all'anulare Ma certa gente C'ha il mignolo Molto più lungo Arriva a metà anulare Capito O anche più corto Varia Varia tantissimo Cioè tantissimo Si parla di Di millimetri Di differenza Rispetto a un mignolo E l'altro Però Poi c'è il mignolo Storto Il mio mignolo È leggermente Tende Tende a curvare Quindi È molto vario E Giorgio dice Giustamente Volete una mano Bisognava farla Grande Grande Giorgio Mi sei piaciuto E qua E qua ci vuole Il colpo di batteria Appunto Porziana Dice Fedo Lo stesso Mignolo Tuo È l'indice Storto Ho detto Indice È sempre Il mio Mignolo Che è storto Ok Tu c'hai l'indice Perfetto Quindi ci compensiamo Ci potrei anche Ci parlerei anche Di come sintetizzarla Sì sì Adesso ci arriviamo Diciamo che in realtà La mano in sé per sé Non è che c'è molto Da sintetizzare Perché All'inizio È molto importante Capire La struttura Infatti Una cosa che vi consiglio Di fare come esercizio Se avete problemi A disegnare le mani Armatevi di santa pazienza E copiate La vostra mano Mettetela in una posa E copiatela dal vero Quindi da una mano vera Ricordandovi La struttura Che c'è sotto Altrimenti Io vi consiglio pure Di partire Da copiare L'anatomia Di una mano Quindi le ossa Anche solo le ossa Non per forza Con i tendini Muscoli All'inizio Qualche osso Poi la mano vera Dopo Si può sintetizzare Perché è difficile È difficile Sintetizzare qualcosa Che non sai come è fatto Cioè che non hai capito Bene Come è fatto sotto E ve lo dico per esperienza Ve lo dico col cuore Insomma Il Sir Conte dice Ho le mani piccole D'eleganti Da nobile Voce fastidiosa Porziana dice Io un sacco di disegno Con le mani monche Se non si vedono le mani Non bisogna disegnarle Esatto Però vi assicuro Perché se vi sbloccate Sarà molto bello Molto molto bello Perché I piedi Non per forza Ci sono sempre Nell'inquadratura È più facile Che ci siano le mani Nell'inquadratura Che i piedi Oggettivamente Perché insomma Sono più vicini al volto Che la parte Che si tende A ritrarre più facilmente No? Anche in un fumetto Per esempio Visto che io vengo Da quel mondo Mica sempre Metti il personaggio Che si vede tutto Tutto Fino ai piedi Difficilmente Cioè Non difficilmente Sì Però Non così Spessissimo Io ho le mani Da fabbro Grandi E sono una ragazza Dice Rune Ma ognuno La cosa bella Delle mani È quello Perché ognuno Ha le mani Particolarissime Io la mano Beh Non so Grande Meglio così Quando picchi la gente La picchi meglio Io se la picchio Mi si sfragna la mano Se disegni I miei della Wii Non ci sono problemi Dice Alessandro Giustamente E Font dice Ma anche i piedi Sono belli da fare E viva Rune Che ha delle belle mani Ma infatti Sono bellissimi da fare Sono io che Devo capirli E ancora Non mi sono messa lì A fare Quello che ho fatto Con le mani Cioè mi sono messa A copiare L'anatomia Varie pose Poi del piede Realistico E dopo a stilizzarlo Mi devo mettere Una volta Porca di quella miseria Facciamo come In Art Attack Suggerisce Rune Andiamo Di fagioli E palline Per il corpo In mani Ma a volte L'audio salta Ho una mia impressione Oddio Salta l'audio Io ho le mani Cicciottelle Sono abbastanza magre Dice Porziana Il fatto è che Le mani Hanno un 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 modo Un Un senso Di esistere Tutto loro Capito Non importa Tu sei Magra Bassa Alta Tutto quello che vuoi Ma le mani Sono a parte Proprio è genetica Non è che tipo Se sei alto Hai le mani Grande No Non è detto Per niente E quindi Allora Volevo farvi vedere Appunto un pochino Di esempi Anche per farvi Intravedere Infatti vedete Qui com'è bello Che si vede Si vede chiaramente L'osso Che rientra Qui E la Fusione Delle due Falangi Qui E poi Le unghiette E una qui Anche qui Qui Sopra Le varie falangi Soprattutto No in realtà È solo sulla prima Sul primo cicciotto Delle falangi Questo Per cicciotto Delle falangi Intendo questo Di solito La pelle Tende a Fare un bozzetto Sul dorso Se voi tenete La mano Stesa La pelle Tende a fare Un bozzetto E delle pieghette 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 Per esempio Mentre Nella seconda No Qua Se ci fate caso Se voi Stendete Stendete La mano Cioè il dito Qui Avete un bozzetto Di pelle Perché Avete Della pelle In più Che quindi Quando Piegate Le dita Si stende E quando Invece Le stendete Si 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 Ritrae Quindi Si accumula In questo Punto Qua Invece No Avete Il contrario Avete Un fossetto Tra l'ultima Falange E la seconda Qui C'è Avete Un fossetto Ok Quindi Qua Si Qua Appunto Fossetto E qui Invece Bozzetto Fossetto E bozzetto Ricordatelo O bozzetto E fossetto Bozzetto Primo Fossetto Secondo Ok Per quanto riguarda Il palmo Vedete Qui Che c'è L'osso Qui c'è L'osso Del pollice No Pollice Pollice Qui c'è Tutto Il pollice La mano Cattiva Qui Tutto Questo È tutto Un bel Muscoletto Qui c'è Tanto Lo sentite Qua Ce n'è Parecchio Non è Non è Non è secco Non è così È proprio Così E qui c'è La pieghetta La prima Pieghetta Che poi ce n'è Anche una seconda Ma questo Anche queste Cambiano No no La lettura Delle mani Oh fortuna Oh mori Vabbè Che questo è ridicolo Io dico Come C'è possibile Che una Rigina A seconda Di come Tu Tieni Strette Le mani Geneticamente Sono formate Tu devi morire Prima Tu mori Invece Dopo Tu sei Fortunato E te No Ah vabbè A ognuno Le sue Credenze Ci sono due Pieghette Questa Che è la prima Che si vede Quando accennate A piegare La mano Soprattutto Le dita C'è una prima Pieghetta Subito sotto Le dita Che è tipo Circa Un centimetro Sotto L'attaccatura Poi c'è una Seconda pieghetta Almeno Io C'è una Seconda pieghetta Che praticamente Va a congiungere Con quella Che poi Formerà Il palmo E il Quella Il cicciotto Del pollice Sospiro Perché cicciotto Del pollice Non si può sentire Che non so Se ha un nome Questo muscolo Ma anche se ce l'ha Non so se voi sapete Che nome ha Questo muscolo Quindi è inutile dirlo Ma comunque Ehm Oddio Che mi avete scritto Che Art Attack C'era arrivata Ehm Ah ok Poi il volume È a posto Il signor Conte Dice Ma le mani Sono difficili Anche perché Hanno una certa Personalità Specialmente in Italia E un comportamento Strano Per esempio Di solito Il medio E l'annulare Stanno vicini Eh sì Di solito Sì Si tende Quando Perché Ragionate C'è ragionate Detto così Sembra Ragionate Stupidi No nel senso Anch'io Ci penso L'indice È quello più mobile Di tutti Oggettivamente No Quindi è quello Che riesce a separarsi Anche di più Anche voi Perché Scrivendo Soprattutto Assume una mobilità Notevole Ma comunque Poi magari anche A livello tecnico È proprio perché È più libero lui Non lo so I vari muscoli Questi due Funzionano Questi due Funzionano Quasi Come un corpo Sole Un'anima Sola E Non c'è Tanto spazio Per allungarli Stranamente Invece Il mignolo Sì Sarà Che forse Le dita Che sono All'esterno Hanno proprio Più Spazio Per farlo Anche questa Curvatura Della mano Vedete La mia È un Semicerchio Che però Tende a scendere Molto di qua A molti Ad altri Invece Fa un Semicerchio Perfetto Per esempio Quasi No Quello Anche Varia Tanto Comunque Vedete Qui ci sono Vari esempi Di mano Volevo Fare Vedete Qui Che cosa Vi dicevo Vedete Il cicciotto Del pollice Questo Qua Vedete Come Anche se L'osso Tipo È qui Qua C'è Questo Muscolo Ciccia Quello che è Ed è Bello Cioè Si vede Insomma Che c'è E questa è la Seconda pieghetta Di cui dicevo Che poi Perché questo È il muscolo Ma la piega Che lascia Il pollice Arriva fin Quassù E di solito C'è una piega Qua E una piega Qua Questa è la Prima piega Che vi dicevo Da un centimetro Di distanza Più o meno Dalle dita Questa è la Seconda pieghetta Che parte Dallo stesso Punto C'è questo Di quella Del pollice Ok Questo è importante Perché così Poi Quindi se Questo è un centimetro Dalla prima pieghetta Se questo qua Un centimetro Questo sarà Un centimetro E mezzo Due Ok Adesso Per esempio Vi volevo far vedere Come disegno Anche io Una mano Da zero Mi prendo La mia mano Stessa Come esempio Vediamo se riesco A mettervela Vabbè perché Giustamente è inutile Che ve la vedete Perché io la vedo Da qua Voi lo vedete Da lì È un po' inutile Ma comunque Vi faccio Una posa simile Tipo questa Quindi non la mano Dritta così Ma leggermente Con le dita Che tendono Perché Questo è stop Ma una mano Nella norma Tende a essere morbida Quindi la apro Solo un pochino Ok Così E man mano Che la disegno Vi dico Che cosa Faccio di ragionamento E adesso Vi dico Come stilizzare Una mano Cioè Le forme geometriche Che vi possono essere utili Per ricreare una mano Quindi E' molto importante Fate attenzione Ce lo dico per voi Allora Metto in posa La mano Che andrà in cancrena E passo subito Al disegno Innanzitutto La mano Si può Riassumere Stilizzandola In una specie Di quadrato Attenzione Sottolineiamo Specie Di quadrato Perché Siamo tutti d'accordo No? Un quadrato è questo Ma la mano A differenza Di un quadrato Non ha Un bordo Sibile Ma tende A Chiudersi Un po' A scendere Ok Quindi Più o meno E' un quadrato Un po' Shortignacolo Il bordo L'angolo più in alto E' l'angolo dove Cade il pollice Cioè il pollice Sta de qua Non sta de qua Ok? In quel senso Dove è il pollice Dove cade il pollice Insomma Poi Guardate che la mano Fa le sue cose Da sola Che poi in realtà Non è proprio un quadrato È leggermente più allungata Non è così Così Sottile Così Stretta Ok? Quindi si comincia con questo Un quadrato Che ha questo angolo A destra Morbido Questo invece Un po' più duretto Ora Di solito Cosa faccio Mi prendo più o meno La stessa misura Del palmo Visto che Come abbiamo detto L'annulare E il medio Madonna Santa Per me è sempre L'annulare E' più in alto E' più lungo di tutti Quindi come riferimento E mi vado a segnare La posizione delle dita Intanto Quindi con dei Delle linee Che saranno Il centro del dito Vado a segnarmi Aspettate che poi Da seconda dell'occhio Che uso Ok Assegnarmi Dove sono le dita E mi accenno Perché è utile Fidatevi La struttura Che c'è sotto Quindi più o meno Dove poi Sono i vari tendini Ovvero il metacarp E tutto quanto Ok? Poi Siccome sto facendo Le dita Leggermente Come vi dicevo Abbassate Mi vado a segnare Insomma Quello che è Se fossero state stese Sarebbero arrivate Fin dove Ho fatto la curva Non essendolo Non ci stanno No? Ora Fatto questo Mi vado a segnare Il pollice Il pollice È la parte più Che può Dar più fastidio Perché molti Potrebbero fare questo Che il pollice Sta qua Sbagliato Siccome abbiamo detto Che il pollice Ha più distanza Vi ricordate Quello che vi ho accennato Prima Rispetto tra Un metacarpo E l'altro Il pollice È un po' Più giù Quindi in realtà La vera mano Ha questo E soprattutto C'ha solo due falangi Rispetto al metacarpo La vera mano Ha il pollice Che arriva qua Qua comincia il pollice Aspettate Che dove è? Qui Questo è il pollice Signore e signori Quindi è una specie Di triangolino Che sbuca Questo Questo angolo Che è un po' Accentuato È dove Comincia il pollice È questa Parte qua Questo scalino Vedete come sbuca fuori Dalla mano Questa parte Sbuca fuori Perché poi lo sta guardando Così Vedete come Questa è la linea E qua sbuca fuori Ok? Fatto questo Vi faccio vedere anche Dov'è il polso Il polso Di nuovo Non sta Qua Cioè La mano Non è fatta così Perché Il pollice Sbuca fuori In realtà Ricordatevelo sempre La mano Questa parte La parte esterna Della mano Per parte esterna Intendo Dov'è il mignolo È quasi attaccata Al polso La parte Invece Interna Quindi quella Del pollice Ha molto Più spazio Vedete Quanto Ne ha in più Ecco ci sono I tendini Vabbè Chi se ne frega Ha molto Più spazio Pardon Vabbè L'ho fatto Arrivare fino a qua Vi assicuro Che già questo Vi rende una mano Molto più mano Di un sacco di mani Che ho visto in giro È molto importante Ok Non faccio ancora pause Vi finisco di spiegare tutto E poi vi rispiego Quindi Rifatemi poi Tutte le domande Ora Visto che la struttura Me la sono segnata Ah Strazio Aspettate Ok Volevo cambiare la gomma Perché non volevo Cancellare tutto Mi vado Vabbè Cancello Leggermente Ciò che oramai Non mi serve più di tanto Adesso mi vado a segnare Aiutandomi sempre con Scusate Io Mi lamento per Photoshop Non fateci caso Facendoci aiutare sempre Dalla stessa curvatura Vado a trovarmi Dove sono le varie falangi Quindi Queste sono le falangine Queste sono le falangette Che sono più vicine Quindi più o meno qua Perché mi sono fatta questa linea? Perché qua mi vado a segnare i famosi ciccetti Qui poi va Anche se sono più piccoli Di quel che sono Non importa Perché poi In questo momento Sto facendo uno schizzo al volo Quindi Ricordatevi che le dita Vanno ad assottigliarsi Cioè Non sono Così Quelle vere Tendono ad essere Così Nei cartoni Si fa finta di niente Diciamo Però sappiate Quelle realistiche Tendono leggermente Ad assottigliarsi Quindi sappiate E quindi mi vado a segnare adesso I miei diti Quindi Primo dito Bandiamo di indice Che Bello preeminente Aspettate Adesso c'è L'attaccatura È leggermente Sopra Leggermente Sopra Poi abbiamo Il Medio Finalmente l'ho detto bene Può anche sembrare il dorso adesso E non vi preoccupate Con le pieghe Quando vado a cancellare l'interno Ci aggiungo le varie pieghe Che fa capire che è l'interno di una mano Ora Siccome il dito è leggermente Abbassato Viene fuori così Sempre comunque con i cicciotti Io sto cambiando L'aspetto Perché ho come reference La mia mano vera E quindi seguo Giustamente quella Però insomma Ricordatevi Fate sempre in tempo A cambiare le cose Senza Troppe ripercussioni E questo Per esempio Qua ho fatto il cicciotto troppo basso E questo è il mignolo Andiamo a fare un attimo Il pollice Devo decidere Come caspitamente Lo sto pollice E pure qua Mi vado ad accennare Più o meno Il ciccetto dove sta Per ciccetto intendo Il punto in cui Le due falangi Si incontrano Che è un po' più gonfio Rispetto al resto dell'osso Come abbiamo visto Nelle immagini precedenti Per questo Dico che è importante Andarsi a studiare L'anatomia delle mano Per capirle Ed eccolo qua Ora Finalmente posso Lasciare la mano Andiamo Adesso che non ci serve più Possiamo togliere La struttura interna Che mi ero segnata Quindi via i ciccetti Via tutto E ci andiamo a segnare Invece le pieghe vere Proprio della mano Ok? In questo caso Abbiamo Le pieghette qui Aspettate Fatemi togliere Un po' meglio Che se no Poi ci si confonde Non è Non va bene Non va bene Ok Per esempio Prima pieghetta qui E altra pieghetta qui Quelle realistiche Si in realtà Ci hanno Sono fatte così Cioè non sono così Se ci fate caso Sono un occhietto Che ti fissa Ed è arrabbiato No non è vero Non è arrabbiato Però sono fatte così Quindi In questo caso Stiamo facendo Quelle realistiche Vi sto facendo Una mano realistica Ve le Ve lo faccio vedere Insomma No? Poi ovviamente Nei cartoni O anche nei fumetti Col cavolo Che mi metto a fare I pieghette E tutto quanto Perché insomma Chi se ne frece Per carità Per esempio Questo dito Mi sono accorta Adesso che In alto È troppo largo Rispetto Alla base Che dovrebbe essere Più cicciotta Perché come vi avevo detto Si vanno Sono fatti Un po' a piramide No? Anche qui Abbiamo Due Tre Quattro E vai E vai di uno E due Anche qui Il dito È incredibilmente Più Cicciotto Così Poi queste In realtà Dorebbero essere Proprio Delle pieghette Quindi non si dovrebbero Vedere tanto Per questo molle Sto schiarendo un po' No? Poi abbiamo La prima piega Della mano Che è quella Come vi dicevo Che è un centimetro Sotto Dove sta? Eccola Sotto il Vabbè Avete capito Sotto l'attaccatura Delle dita Non so più parlare Guardate che Effettivamente L'ho fatta un po' Ecco Meglio Un po' più così La seconda Come abbiamo detto È quella che parte E che segna Il muscoletto Anche del Ce la posso fare Del pollice Che più Sto notando Che più o meno Cade a metà Della mano Rispetto a questa Larghezza Non a questa Ok? Quindi rispetto Alla mano Così più o meno È a metà Più o meno E poi abbiamo L'altra pieguzza Che se ne va A fanculo Qua sotto Questo lo togliamo Perché se no Non si capisce In accidenti Ed effettivamente Non ho fatto Le pieghette Del povero pollice Opla Voilà Ecco qua E così Abbiamo ottenuto La nostra Manu fatta In casa Ok Era la musichetta Di Art Attack Ma non sono intonate Neanche per sbaglio Quindi Bene così Allora Avete domande Curiosità Ovviamente Anche queste pieghette Non è che sono Boom Seguono sempre L'archetto Delle dita Ok? Ma di nuovo Quando ho disegnato Una mano Guardatela Guardatela Ce l'avete là Guardatela Ammiratela Carzatevi un po' Vogliatevi bene Vogliatele bene No? E così E posso Scusate Ho dato colpi al microfono Perdono Ok Le mani sono difficili Rune Rune dice Il signor Il signor conte Perdonami 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 per la pronuncia Perdonami Che non ho idea Di come si pronunci Che scrive Salve Salvissimo Perché non mi sa Che sei nuovo Quindi Salve Che scrive Il cicciotto Quello di due Fantagenitori Fondos Dici Io ho una domanda Visto che hai finito Questo attacco D'arte Ora possiamo vedere Il riassunto Del capo Ad avercelo È vero Il capo è lui Anche se in realtà Ma io non ho solo Un capo di qualcosa Il capo è lui E Hector Il capo qua Sarebbe divertente Che si lo faccia muovere Che farei assunto No Non ho teste di qualcosa Stranamente Il che è grave Dovrei Mi piacerebbe da morire Un bel teschio Di tirannosaulo Che bello E così vi farei fare Il riassunto Da quello Alessandro mi cita Dicendo un problema Se Se Ti beccano È vero E invece Se non ti beccano Non è un problema E Manuel dice Il tutorial è molto bello Purtroppo però Domani devo andare a scuola Quindi finirò poi Di vederlo a notte Buon disegno Grazie Manuel Ma tanto tranquillo Che il più L'ho detto Adesso si tratta Giusto il dorso Se volete Vi disegno anche Della mano Come esempio Però insomma Non ti preoccupare Buonanotte Grazie per essere Per aver assistito Al tutorial Buonanotte Buona scuola per domani Soprattutto Mirko scrive Fatti come me Un calco Della tua testa In gesso Hai un calco Della tua testa In gesso Ammazza Interessante Silicone Tutto addosso Ma non Non si muore Per farti il calco Della faccia No Perché mi immagino Per farti Tutta la testa Capelli compresi Perdono Sono stanca Però deve essere Fichissimo Oddio Non mi piaccio Per niente Così tanto Da volere Un'altra faccia Di me Che mi guarda Già mi basta Guardarmi allo specchio Ogni giorno Fondos dice Va allora Mettiti il faccione Di Barbossa Qua davanti E doppiolo In modo che faccia Riassunto con tono Marinaresco Esatto Non fosse che in realtà È enorme Ve lo farei pure Ve lo porterei pure qui Però è un casino Fidatevi È davvero un casino Perché lui è alto così Cioè da terra È alto così Ed è alto Quanto me Rido perché Non sono proprio altissima Quindi E mi faccio superare Da tutti in casa Sono tutti più alti Anche il mio cartone Di Barbossa Il mio cartonato Di Barbossa Il signor Conte dice Le mani Hanno una particolare reazione Quando impugnano oggetti L'unica reazione Particolare Che hanno È il fatto Dei tendini Che si vedono di più Quello che dice Più ci metti forza Se fai Se fai questo Vedrai Questo movimento Soprattutto se Lo fai Stringendo I muscoli Vedrai Che i tendini Stirano tanto E si vedono tanto Quindi È più Quello che cambia Perché poi in realtà La meccanica Di afferrare oggetti Sta nella mano Stessa Cioè dipende dall'oggetto Cioè se io sto Prendendo la mano La mano Che sta impugnando La mano Segue la forma Dell'oggetto Insomma Quindi Tipo la chitarra In particolare Non è che variano Però possono appunto Fare Questo movimento Di Che diventa Cerchio Vedi Cose così E quello Ti può essere utile Se davvero Ti prendi un oggetto E ti copi la mano Cioè ti può aiutare Perché poi Sono molto mobili Le mani Per questo secondo me Sono apparentemente Difficili Perché sono molto Molto mobili Possono fare davvero Qualsiasi Quasi Qualsiasi cosa Possono Quindi Però se appunto Ti puoi aiutare Vi potete aiutare Con la mano stessa A fare Le prove Anche a disegnarla In un disegno stesso Fare le prove Le disegno uguali Alessandro dice Che poi Che poi Solo anni E anni dopo Ho cambiato Ho capito La battuta Del capo Di Art Attack Ho sempre pensato Che fosse il mio capo Manco avessi un lavoro Sì Concordo Anch'io L'ho capita Un paio d'anni fa Che il capo Non era il capo Ma era Una testa Capo Inteso come testa Sì È stato Incredibilmente Giorgio dice Se proviamo La stessa cosa Con una mano Più Anzianotta Ah Tipo Vedere Le differenze Di età Tra le mani Per chi Li vuole Disegnare Ah sì Anche Ma adesso Posso farvi Vedere A trovarla Una mano Anziana Voglio trovarvi Una foto Di una mano Anziana Così vi faccio Vedere Diciamo che Più si va avanti Con l'età Per aiutarvi Insomma E più Si La pelle Non è più stesa Bene Quindi è molto Più rugosa Quindi le rughe Che potevano esserci I tendini Si vedono molto di più Si asciuga molto La pelle Quindi fateci caso Anche le Le mani Delle nonne Da giovani Sono Non si vedono I tendini Quando invecchiano Si vedono tanto Tutte le vene Si formano Molte più rughe Proprio anche Sul dorso Della mano Dove Non ce n'è Quasi nessuna Se ci fate caso Fino a una certa età Quindi Per darvi Già Una dritta A riguardo Si vedono Molto di più I tendini La struttura ossea Come pelle Magari è più A macchie E ci sono Un pochino Più rughe Se Vedo di trovarne una Ve lo faccio vedere Ho visto Tipo Dice Porziana Che fa le teste Dei mostri Di Monster Hunter Con la stampa 3D Ah Ho visto Un tipo Che fa le teste Dei mostri Di Monster Hunter Stampante 3D Potresti usare Quella come capo E Giustamente Si farà pagare E purtroppo In questo momento Non sguazzo Nei soldi Ma sarebbe Una bellissima idea Mirko dice Altro che silicone Bende gessate Buchi nel naso Lasciati aperti Per non morire Mazza Di fatto La dovrei usare Come base Per creare maschere Per qualche motivo Non ci ho ancora Fatto nulla Però Ah che figata Giusto Cioè giusto Che si sia fatto Il calco della testa Per fare le maschere So che appunto Si usa fare così Che figata Allora Vediamo se trovo Al volo Una mano Di una vecchietta Ma Aspetta Fammi Cerca su Pinterest Che hanno le cose Filosofiche Old hand Vediamo Old hand And Esatto Proprio Quello che vi dico io Aspettate Ve lo faccio vedere Vediamo se Oddio Quanto è piccola St'immagine Niente Vabbè E Do sta Ok Allora Per esempio Questa è la mano Una mano anziana Madonna Quanto è piccola Vedo di ingrandirla Si sgranerà un po' Vabbè Sì Ve la metto qui Tanto Vi faccio vedere Vedete come Aspetta Come proprio quello Vedete come Qui i tendini Si vedano così Chiaramente Queste Sono le mani Probabilmente Di una Signora E si capisce Soprattutto Il fatto che È prima di peli Cioè Di alcun pelo Non è una battuta Per forza Vedete qui Le vene Come si vedono Il tendine È proprio molto asciutto E ci sono rughe ovunque Cioè Proprio la pelle È molto rugosa Qui è una vena È tutto Molto più rugoso Immaginatevi La pelle asciutta Quando si è anziani La pelle Come se fosse Una pelle Super disidratata Cioè Si asciuga tutto Quindi La pelle Tende a calare Molto più A mettere proprio In evidenza Tutto ciò Che sta sotto Guardate qua Come si vede Chiaramente Tutte le vene Vedete qui Queste tutte vene Tutti i tendini Sotto Le nocche Le ossa Tutte rughette Ovunque Tutte rughette Ovunque Vedete È tutta Una ruga E Giorgio Scrive Là proprio Nella scena Quando Robin Williams Si fa fare Donna Donna Mrs. Doubtfire Dice Sì Beh pensate al film Mrs. Doubtfire Nella scena Quando Robin Si fa fare Donna Si vede tutto Il procedimento Per fare La maschera E si fa fare Pure il calco Infatti Oddio Quanto è Niai Che non vedo Quel film Quanto era bello Madonna Scusate Mi dimentico Il vero Si capisce Che è priva Di peli E Saks Come la spiega E Femmina Con le mani Colme Di peluria Bah questi luoghi Comuni Sexisti Veramente Oramai Questo Razzismo Pure Tra Tra una donna Scimmia E una donna Umana E' vero C'è ragione Sono Sono troppo Tradizionalista Chiedo Chiedo Venia Sono troppo Bicotta I'm so sorry Quindi Davvero Ma in realtà Col tempo Si imparano Anche a riconoscere Anche la forma Delle mani E' particolare Di solito Quelle così Affusolate Con le dita Delicate Magari è un uomo Davvero un uomo Però Le dita Soprattutto Questa parte E' particolare Di solito Col segno Di poi Distinto Si impara A riconoscerle A furia Di disegnarle Mirko dice Giustamente In questo caso Più che Sexista È Saxista Questa mi è piaciuta Ma bravi Vi vedo belli Belli frizzanti Stasera Bravi Bravi Non è ironico Bravi davvero Mi piacete Stasera Abbattute Abbattute Alla mano Dice Puttorone Alla mano Madonna Ma siete fantastici Stasera E Giorgio dice Man mano Escono fuori Alessandro Alessandro dice A me capita spesso Di disegnare donne Con le mani Da uomo Basta Che ti vai a vedere Come Ma è normale Ti dico È normale Come È normale Che quando una donna Prova a disegnare un uomo Lo disegna femminile Quando un uomo Prova a disegnare una donna Le disegna con delle tette Assolutamente Ma neanche lontanamente Fisicamente possibili Per dire Che giustamente Uno disegna Quello che è più abituato A vedere E cos'è Che siamo abituati a vedere E soprattutto A conoscere Che sappiamo come è fatto Il nostro corpo E vi assicuro Vi assicuro Che il 90% Delle volte Quando un autore Disegna un personaggio Tanto per farne qualcuno Cioè non Un personaggio Di un fumetto Per una storia Ma se disegni Se fa un'illustrazione Vedrete Che il soggetto Femmina O maschio Che sia Avrà Delle caratteristiche Del proprio corpo Cioè non Che le mani Siano da donna Piuttosto che da uomo Ma per esempio Tutte le donne Tenderanno ad avere Quel tipo di fisico Con quei Non ciccione o magre Ma con quel tipo Di fianchi Quel tipo di spalle Quel tipo di viso Ma è normale E lo faccio anch'io Lo faccio anch'io Ed è normale Perché si tende a fare Quello che si conosce Distinto E quello che si è Più abituati Quindi tranquillo Che è normale Soprattutto all'inizio Più disegnerai Mani Soprattutto ti consiglio Di andarti a vedere Foto di mani Da donna Di donna Rispetto a E compararle Con le tue Visto che Già che ci sei Che sei un uomo Fai pure più facilmente No per esempio Guarda se vuoi Ti posso fare Proprio un esempio Questo Che ho fatto Anzi Ti faccio un esempio Cartunesco Che mi è più facile Se dovessi disegnare Una mano di una donna Allora Questo Questo è come disegnare Una mano di una donna Così vi vedete anche Come tendo a fare Una mano Per esempio Questa è una mano Fatta da zero Questo è il dorso Della mano Quindi qui c'è il polso Fatta molto veloce Quindi non Non Così Così Come viene Viene Ok Quindi qui c'è La prima Falangina E la falangetta Per esempio Questo Questa è una mano Femminile Ok Per le unghie Una lezione a parte Per le unghie Comunque Per esempio Sto cercando Di fare Delle dita Molto Sottili Affusolate Che vuol dire Appunto Sottile Tende ad essere Sottile Aspettate che Sennò Si confondono Le cose Accenno Appena Alle nocche Basta Mi ho fatto un indice Lungo Una quaresima Aspettate Ole Così è un po' più Veritiero Perché È leggermente Mentre Il medio È più steso L'indice Col fatto che è meno steso Non ha senso Che sia così lungo Vedete qui Il bozzettino Che vi dicevo Prima Un pochino Di pieghetta Leggera Leggera Non per forza Tutte le dita Figuratevi E quindi Io ho accennato Appena Appena Alle nocche I tendini Neanche li calcolo Proprio Soprattutto Una mano Rilassata Di una donna Dita Sottili Che hanno Soprattutto La punta Di ogni dito È molto Piccolina No? Molto sottile Questa invece È la mano Di un uomo O come Come farei Io La mano Di un uomo Guardate Giustamente Mi faccio Come vedete Faccio sempre Un minimo Di base La famosa Base Del triangolo Eh Triangolo Buonanotte Il famoso quadrato Quello là Che vi dicevo Vi ho fatto vedere Prima Vediamo Se ce la posso Fare Guardate Mi deve fare Vedi Una cacata Più o meno Cerco di fartela Nella stessa posa Così Che poi Quella Pure la posa È diversa Questa Quella a sinistra È una posa femminile In un Sempre Ragionando Come caratterizzazione Di un personaggio Soprattutto All'interno Di un fumetto Si deve capire subito Di che La personalità No? Però Più o meno Come vedete E soprattutto Come vedi Giorgio Sei tu che me l'hai chiesto Vero? Sì Le dita Sono molto Più tozze Le unghie Sono proprio Le faccio molto squadrate Rispetto a quelle Della donna E Soprattutto Vado A enfatizzare Ogni piega Del dito E ancor più di tutti Vai giù di tendini Di nocche Fai vedere tutto Detto così Pare brutto ma È così Sono molto Più Addirittura Può anche accennare A qualche vena Però Beh Oh là Aspettate che Non si capisce Granché Con tutte Ste linee Aspettate che Giustamente Devo Beccare L'angolazione Giusta Dei tendini Se no Sembra che Vanno A quel paese Con Pure Qualche Accenno Di pelo Vedi La differenza Come Come Ho Accentuato Determinati Aspetti Quindi Nella donna Dita Molto Sottili Con la punta Molto Che va Da sottigliarsi Unghie Strette E lunghe Qui Invece Dita Tozze Larghe Unghie Quadrate Molto Squadrate La mano Stessa È Molto Squadrata Farla Proprio Molto Squadrata Mentre Qui È Più Sottile E Lunga Anche Il polso Le ossa Del polso Sono Molto Più Accentuate Si Vede Tantissimo La nocca Il tendine Di ogni Dito Mentre Nella donna No Solo Accennato Qui Invece Pure Al polso Non c'è Niente Questo È Come Differenzio La mano Di un uomo Da una Mano Femminile Personalmente Parlando Secondo il mio Metodo Spero Che ti sia Stato Utile Dove Sei Dove Sei Devi aspettare Certe Battute Ah Devi Aspettare Milko Dice Devi Aspettarti Certe Battute Quando Lasci La chat In Buone Mani Devo dire Che Stasera Vi trovo Molto Alla Mano Con le Battute E Le mani Si prestano Davvero Tanto Per un Sacco Di Battute Letteralmente Perché Battano Anche Tra Loro Madonna Ragazzi Alzo Le mani Dice Lune Con Ste Battute Mi Avete Mi Avete Dato Una Manata Alessandro Chiede Ma Le palme Hanno Le mani Beh Le mani Delle palme Hanno Le mani No Hanno I palmi Vabbè Perdono Volevo Fare Una cosa Simpatica Non Mi È Riuscita Rune Dice Siamo meglio Di colorato Siamo Tipi Alla Mano Nelle Battute Appunto Accidenti L'ho Detto Io E Giorgio Dice Sì Infatti Ci sono Le punteruole Rosse Che Pizzicano Milko Dice Anche Io Disegno Spesso Le mani Con Anullare Medio Attaccati Mi Pare Diano Un Sacco Di Personalità E Gesti E Sì Anche Perché È Naturale Se Attaccati Quindi Risultano Naturali E quindi Giustamente Anche tu Distinto Ti viene Da Disegnarle Così Perché È Così Quindi Bravo È Così Che si Fa Le mani Hanno L'olio Di Palmo Di Cerune Sì Io Ne Ho Un Sacco Perché Mi Sudano Tantissime Tantissimo Le mani Giorgio Dice Se Io Ti Avevo Chiesto Ah Sì Io Ti Avevo Chiesto Per L'età Ah Ok Pardon Ma Anche Per La Differenza Fra Sesso Ci Stavo Pensando Grazie Mille Ah Pardon Allora Forse Ritual Alessandro Che Mi Comunque Signori Dalle mani Da orgasmo Sono quelle Di Atlantis Sono stupende Sì Sono fantastiche Guarda che Mi ha aiutato Tanto Se ti vai a vedere Le mani Di Atlantis Vedi La differenza Pazzesca Se ti vai a vedere Le mani Di tutti gli uomini Riconosci subito Che sono mani Da uomo Tutte quelle Da donne Sono estremamente Da donna Quindi È davvero Un enorme aiuto Per capire Questo genere Per differenziare Ma guardate La Disney Vi aiuta Tanto Andatevi A vedere Autori Anche appunto I character design Della Disney Dei film passati Perché Vi aiutano Ancora di più A enfatizzare Le differenze E E beh Atlantis Della Disney Dice Giorgio Hanno proprio Le dita Non solo Squadrate Ma anche Le unghie Diangolari Mentre Alessandro Dice Ma anche Come si appoggiano In quel film Sono belle Sono bellissime Anche le mani Di Tarzan Con tutte Quelle pieghe Sì È bello Quando la Disney Faceva ancora Filmi in 2D Mortacci Loro Non apriamo Questo capitolo Che per me È una sofferenza Oramai Mi è rimasto Solo il Giappone In cui sperare I film in 2D Soffro Così tanto Ma comunque Quindi Che ne dite Volete qualche altra Spiegazione Già che sono qui Qualcosa in particolare Per realtà Alla fine Tanto Ve l'ho fatto vedere Differenza Uomo Donna Poi In mani Dei bambini Umani Ad adulto Non è che C'è tanta Differenza Sono Miniaturizzate Alla fine Un po' come Tutto il corpo Ci sarebbe da fare Una lezione Solo sul corpo Del bambino Rispetto Al corpo Di un adulto Ed è Complicato Alessandro dice Torneranno i film In 2D Della Disney Stanno sperimentando Delle nuove tecniche Aspetta e vedrai Ma io non voglio Le nuove tecniche Non le voglio Cioè Detto così Sembra una cosa Non ti piacciono Le cose nuove No Mi spiego meglio Non mi aspetto L'acetato O cose così È che Voglio Vorrei Evitare Che Usino un'animazione Alla Toon Boom Che è un programma D'animazione Che usa tipo My Little Pony No Le saghe nuove Di My Little Pony Adesso è quella Che mi viene in mente Usa tanto quello Che non è Usa tipo Flash No Che quindi La linea Va da sé Sono elementi Separati Appiccicate insieme Che si muovono A sé stanti Ma dà un effetto Che a me non piace Per niente Oggettivamente Non è Bello quanto Un cazzo Di 2D Disegnato a mano Che poi adesso Col computer C'è un programma C'è un programma Meraviglioso Che si chiama Accidenti V Paint Ci puoi fare Le cose più belle Del mondo Con un'animazione Meravigliosa Che è molto Simile a quella Di un tipo Dell'acetato Così Però è computer E non ci vuole Tutto sto che Capito Cioè Io non vorrei Tecniche Troppo particolari Perché poi Non sembra più 2D E quindi Che me lo fa fare Il 2D Che sembra Sì fichissimo Però non Non sa più Di quel 2D Di Vabbè Insomma Pardon Sto divagando Eh Cosa Dai Voglio vedere Ah Il Bambino E corpo Adulto Pensa che Col fatto Che ha disegnato Pochissimi Bambini Perché fino ad ora Non ne ho avuto La necessità Nei fumetti Nei progetti Che ho fatto Non mi è mai capitato Di doverne disegnare tanto In realtà Me lo dovrei studiare Ancora un pochino La differenza Tra Bambino E adulto Però Prima o poi Quando Quando mi metto In paro Se volete Vi faccio un tutorial Anche su quello E Dov'ero Dov'ero Per non fare Rispetto a nessuno Nella prossima puntata Si faranno Le zampe E Pfff È detto tutto È detto niente Le zampe Sono così diverse Già quella Di un gatto Da quella Di un leone È completamente Diversa Figura di Quella dei lupi E dei cani È in realtà Pure uguale Però Sono tutte Così diverse Non finirei più Farlo Fondo Dice Fede Dico Chiaro e tondo Hai degli occhi Terribilmente Stanchi Scusate Perdonatemi Purtroppo Non è un periodo Proprio felicissimo C'è un periodo Insomma È successo Cosa un po' Spiacevole Ma vabbè Cose personali Quindi sono stanca E ancora Non mi sono ripresa Niente di grave Tranquilli Litigate Litigate brutte Insomma Non volevo Che succedessero Quindi no No Niente di grave Quindi tra quello E il fatto che Prima della live Mi sono fatta Una passeggiatona Bella lunga Sono cotta Perdonatemi Gli occhi Abbottati De sonno Tranquilla Niente roba Di quel tipo Dice Alessandro Ah ok Dicevi delle nuove tecniche Ah ok Allora Allora va bene A proposito A proposito Di programmi Di animazione Lo studio Ghibli Ha lasciato gratuito Open Open Tunes Che cos'è Perché non Ne sapevo Niente Di questa cosa Adesso devo solamente Andare a vedere Ah Penso sia una cosa Molto semplice Poi però Me lo vado a vedere Come funziona Non sia mai che Ci sia qualcosa Di interessante Non voglio vedere La mia faccia Scusate Mi apre Cose Incredibili Useranno una tecnica Che hanno usato Su paper man Ah Quello fondere 2D 3D Beh Di certo Preferisco Quello Che i film In 3D Quindi mi va bene Anche se Per nuove tecniche Intendono Quello Paper man Alla fine Era abbastanza Abbastanza 2D Anche se per me Il 2D Completo Fino All'osso È meraviglioso Che poi Non perché Una cosa Più realistica È bella Però Sai quando Mangiate Una torta Il cibo Più buono Il cibo Che vi piace Di più Quando lo mangiate Ci provate Un gusto Che Se ne mangiate Uno vi piace Di meno Cioè è buono Oggettivamente È buono Però Non vi piace Più di tanto È per me Uguale Per me Una delle animazioni Che mi piace Più di tutte È quella Che hanno usato Nel Re Leone Nel Re Leone È tutto così Morbido Però allo stesso Tempo pesante È proprio Mi dà lo stesso gusto Che mangiarmi La mia torta Preferita Proprio Ogni volta che lo guardo È proprio Bellissimo E che io odio La versione restaurata Perché la versione restaurata Fa schifo Fa schifissi Cioè fa schifo Detto così Rispetto all'originale Non mi piace Non mi piace Hanno tolto Perché era bello Anche il fatto Che la matita Si vedeva un pochino Era bello così Vabbè Scusate Divago ancora Quando sdici Io devo andare Grazie per questa live Per tutti i tutorial Sempre utili Se ci sono esercizi Lo puoi dire Che domani Mi rivedo la parte Che sto per saltare adesso Ok Allora intanto Buonanotte Fonzos E di esercizi Io vi direi Vi consiglio Come sempre Non sono obbligatori Io lo dico per voi Soprattutto Non è obbligatorio Farmeli vedere Io lo dico per voi Col cuore Come esercizio Vi lascerei E' proprio quello E' proprio quello Di fare La vostra mano Che come reference In varie pose E soprattutto Vi consiglio anche Di vedere Come interagisce Se reggete Una penna Se reggete Piuttosto Un pacchetto Un pacchetto Di fazzoletti Se reggete E vi consigliere OpenTunes Aspetta 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 Manuela È arrivata Manuela Che dice Ciao È arrivata da poco Io lo uso Toon Boom E impazzisco Eh Sì Ti capisco Il fatto è che Purtroppo Io mi sono resa conto Che per quanto io Ami alla follia L'animazione 2D Non ho la pazienza Di fare animazioni 2D Così Per lavoro Soprattutto Non ce la farei mai Però è bello Toon Boom In realtà A me non fa impazzire Mi piace molto di più TV Paint E vattelo a cercare È bellissimo Dice Alessandro Ah Perché tu mi stai suggerendo Letteralmente Un dinosauro Vero Pensavo che tipo Fosse inventato Tipo Lentosaurus Pardon Vediamo Uh Che bello Ce l'ho presente Qual è Sì sì L'ho visto in giro Ma mi sa che pure Da poco Non so se Jurassic World L'ha messo Nell'ultimo Non lo so perché Ma l'ho visto Tra i giochi Di Jurassic World Magari me lo sono sognato Eh Però è fichissimo È davvero fichissimo Con sto fregno Ho visto che non ci sono state Particolari domande Delirante Detto così Sembra una minaccia Ma non ti preoccupare Non è vero Non sono poi così Delirante Sono solo scema È diverso L'ho finito Se vuoi te lo mostro Sì ma Andamelo che così Poi ne parliamo in chats Che sono curiosissima Di vederlo Mentre Alessandro dice Peccato che Peccato come Un ippop Ah scusami Pacato come un ippopotamo In un campo da golf In realtà Non lo so Quanto si è pacato Quindi Non è pacato Perché Si sa che era aggressivo Ma no Dai È simpatico C'è la faccetta simpatica Dai C'è un musetto simpatico Ecco Ah sì Si cominciano con gli sbadigli Quindi Quindi carissimi Io vi saluterei Vi dare la buonanotte E vi dare appuntamento Al prossimo giovedì E Concludo dicendo Che mi dispiace Perché mi sono stati chiesti Dei tutorial Anche interessanti Tipo Tutorial sui background Sulle proporzioni E Solo che Oh Riccardo dice Sono tornato Buonasera Fede Ma buonasera anche a te E buonanotte Perché Purtroppo sto Andando via Che sono Stracotta Però se ti interessa Come disegnare Le mani Ho fatto appena Un tutorial su quello Non mi ricordo più E purtroppo però Sui background E sulle proporzioni Io stessa Non sono una cima Io Le proporzioni Le proporzioni Non le conosco Da sola Da sola Non ce la faccio Lo so Sono una sola Purtroppo Non so fare tutto Chiedo Umilmente Venia E' arrivato Davide Che dice Ciao a tutti Anche se Mi son perso La live Un salutino Veloce Ci sta Notte Ma grazie Davide Sei troppo gentile Grazie Spero che poi Ti recuperi La live Se ti è utile Per carità Se ti interessa Se hai anche tu Difficoltà a disegnare Le mani Questo è il tutorial Che fa Per te Abbiamo disegnato Questo così Sembra un po' Più serio Abbiamo disegnato Mani Ci ho provato Vorella rune Mi scrive Eciu Nottefede Io stranamente Ancora Non ho starnutito Però sbadiglio Mannaggia A me Quindi Io vi aspetto Giovedì prossimo Non so Se con un altro Tutorial Più che altro Perché più o meno Tutto quello che Solo ho detto Però comunque Se qualcuno Vuole rivedere Altre cose Me lo può dire Insomma Vedremo Vedremo Vi terrò Vi terrò Aggiornati Di più ciao a tutti aspettate vi saluto insieme a Goffredo che si vede troppo poco ultimamente saluta Goffredo vi ha salutato anche lui quindi ancora buon eccolo buon chiarosarone a tutti e ci vediamo giovedì prossimo alla stessa ora, allo stesso posto, allo stesso mare e anche Porziana dice buonanotte, buonanotte anche a te Porziana ciao ciao